Un via vai continuo qui a Palazzo dell'emiciclo. Oggi è iniziata infatti la raccolta per l'Ucraina promossa dal Consiglio regionale. Un via vai perché tante persone sin dalle prime ore della mattinata stanno venendo qui all'emiciclo, sede del Consiglio regionale, per portare le proprie donazioni. L'aquila generosa, l'aquila che non dimentica la solidarietà ricevuta e che massa sta rispondendo alla richiesta di donazioni per aiutare il popolo ucraino in fuga dalla guerra. E così da questa mattina è iniziata la raccolta anche nella sede del Consiglio regionale all'aquila. Da oggi e sino all'11 marzo sarà possibile donare dalle 9 alle 13 recandosi all'emiciclo dove si troverà personale dedicato a ricevere. Si chiedono prodotti per l'infanzia, per uome, donna, cibo, coperte. L'essenziale è che tutto sia nuovo. Per le normative Covid non si accetteranno cose usate. Iniziativa che era già partita, sempre promossa dal Consiglio a Pescara. Tantissime persone sin dalle prime ore della mattinata si sono recate in regione per donare. Ragazze, voi che avete portato a questa raccolta? Voi, i generi di prima necessità, quindi dal scatolame, riso, pasta, ma anche abbiamo pensato magari a roba come assorbenti, pannolini comunque per bambini. Abbiamo fatto una raccolta tra ragazzi di soldi e siamo andati a comprare queste cose che oggi portiamo qui. L'aquila insomma ha ricevuto tanta solidarietà in passato, era giusto farlo? Penso proprio di sì, sì. È giusto. Ieri intanto c'è stata in Piazza Duomo la raccolta organizzata dalla comunità ucraina locale col supporto del Comune, sostenuta materialmente da SM, Alpini dell'Ana e volontari di protezione civile. Alla fine sono stati raccolti 86 quintali di materiale già stoccato e le donazioni sono state talmente tante che alle 13 già siano riempiti i magazzini e si è interrotta la raccolta che sarebbe dovuta durare sino alle 18. I medicinali verranno caricati probabilmente già da domani da un camion in arrivo dall'Ucraina che li porterà a destinazione. Altre cose potrebbero rimanere qui in attesa dell'arrivo di profughi che saranno accolti in città. Di supporto in regione i Alpini dell'Ana che stanno dando una mano nel ricevere le donazioni. L'iniziativa è stata del Consiglio regionale, noi come Alpini ci siamo messi a disposizione del Consiglio e stiamo dando una mano per questi poveri ucraini che sono in guerra. Ieri l'abbiamo fatto col Comune, oggi lo facciamo col Consiglio, abbiamo lanciato una raccolta in tutta l'Abruzzo con i gruppi alpini di tutta la sezione Abruzzi dove lo raccoglieremo in dei magazzini per poi distribuirli.